Nel mio settore come artista, come artista lirica che è tanto impegnata per raggiungere quello che uno si predispone quando inizia questa scelta, è il rispetto della fatica, il rispetto dell'aver fatto tutte le strade nell'onestà e quindi rispettare questa mentalità equa, onesta e in parole più pratiche, se hai delle idee, se hai delle paternità per alcuni concerti, per alcune testi che tu hai portato per prima, rispettare questo. Un po' in America questo c'è, per le idee vengono tutelate, tutelare la paternità delle proprie idee e dei propri progetti.